L'abbiamo trovato, una delle missioni del Dancing Day Time è quella di trovare il demente del giorno Questo è un super demente, un ladro, un ladro che è stato arrestato dopo aver chiamato lui stesso la polizia Perché non riusciva più a uscire dalla casa che era entrato C'è stato tre giorni, allora cosa è successo? Si arrampica da una finestra, la forza al primo piano Entra in questo alloggio che era vuoto perché i proprietari erano in vacanza Ha svuotato i cassetti, poi ha trovato l'armadietto degli alcolici Ma sì, facciamoci un cicchetto, completamente ubriaco Non riusciva più a trovare, non riusciva a trovare chiavi per uscire normalmente E ubriaco così, non riusciva più a calarsi dalla finestra dalla quale si era arrampicato Dopo tre giorni di agonia, ha deciso di chiamare la polizia Dicendo venitemi a prendere, sono entrato in una casa e non riesco più a uscirne Complimenti! Elemente del giorno trovato, ne sentiamo spesso di questi qua che vanno a fare i topi d'appartamento Però poi si alcolizzano e perdono insomma la cognizione Non si beve mai sul lavoro, ha ragione Andrea Che saluta, ciao Andrea Grazie a tutti!